Allora, i motivi per cui poter votare noi e la lista di Lega Toscana. Innanzitutto per la nostra filosofia di essere territoriale. Questo è infatti un po' il segno della nostra partecipazione, soprattutto per portare di nuovo l'attenzione ai problemi del cittadino, quelli che specialmente sono stati sempre da ora inascoltati, quindi per avvicinare la politica ai bisogni del cittadino, perché la politica è appunto un servizio per la comunità e per il cittadino in primis. Allora, noi facciamo della nostra filosofia, molto l'ascolto, la partecipazione e la condivisione, che deve avvenire non solo prima delle elezioni, ma anche dopo. In noi troverete sempre un punto di riferimento per i problemi e per tutto quello che avverrà. In qualunque modo possa andare la consultazione di domenica 11 giugno. Saremo sempre disponibili. In più, vi chiedo un ultimo sforzo di votarci. Per riportare la sicurezza, il decoro in città e quindi migliorare un attimino la qualità della vita.